Ciao ragazzi, non perdetevi l'appuntamento con il Torneo delle Nazioni, che si giocherà dal 25 aprile al 1 maggio in Friuli, Austria e Slovenia. Si affronteranno le nazionali Under 15 più forti del mondo. Con tantissimi campioni di domani, l'ingresso alla partita è gratuito. Non perdete questa occasione, andiamo tutti insieme a goderci questo spettacolo.